A 70 anni dall'inizio della carriera di Blackjack, il figlio David presenta il miglior omaggio che si possa offrire a questo campione, una GT da pista omologata per l'uso stradale, fondando inoltre il marchio Brabham Automotive che muove i primi passi con la BT62. Il nome non è certo casuale, bensì un'ideale prosecuzione delle sigle utilizzate dalla scuderia per identificare le monoposto che hanno corso in Formula 1 fino agli anni 90. Solo 35 gli esemplari previsti, in omaggio alle altrettante vittorie del team Brabham in Formula 1, ciascuno in vendita a 1,1 milioni di euro, tasse escluse. Un prezzo da hypercar giustificato da specifiche che pongono la BT62 a livello di Ferrari a McLaren. Equipaggiata con un motore aspirato V8 5.4 litri autoprodotto da 710 cavalli e 667 Nm di coppia ed un peso a secco di soli 972 kg promette prestazioni assolute cui contribuisce a un'aerodinamica pensata per le corse. L'obiettivo è riportare il glorioso nome Brabham alla 24 ore di Le Mans, la grande classica vinta da due dei tre figli di Jack, Jeff e David.